ciao a tutte oggi non mi mostro perché sono in velocità e registrerò due video quello di domani che è lunedì e quello di martedì perché in questi giorni se dio vuole dovremmo partire di conseguenza ho tantissime cose da fare da preparare ma non voglio lasciare il mio canale senza i video giornalieri se riesco programmo l'uscita del video di lunedì e quella di martedì quella di martedì la devo per forza programmare perché non mi è possibile fare altrimenti quindi vi registro il primo video quello di lunedì e vi faccio vedere cosa ho acquistato alla lidl a parte qualcosa da mangiare che però non vi faccio vedere in questo video ho voluto prendere due calze 36 38 queste della lidl erano rimaste delle magliette da uomo dei pantaloni ma mio marito non piacevano e quindi ho preso queste calze per federica una per mio marito quindi federica 35 38 39 42 quella per mio marito è un'altra che l'ho già data federica io federica abbiamo la stessa numerazione quindi a lei io l'ho già data queste sono le mie e quelle di mio marito le ho pagate un euro forse due euro un euro e 99 qualcosa del genere poi sono riuscita a trovare un prodotto che aveva fatto vedere ornella e forse l'aveva fatto vedere anche precedentemente leonora mocio forse anche betti perdonatemi se io non mi ricordo i nomi di tutte quelle che fanno vedere i prodotti però dovrei prendere appunti quindi l'ultima che l'ha fatto vedere e ornella e ha fatto vedere anche lo spray ma lo spray non sono riuscita a trovarlo questo sono riuscita a trovarlo era l'unico e l'ho pagato forse 2 euro e 99 non lo so oppure 2 euro e 99 da scontare del 30 non è la più pallida idea e quindi ho voluto provare questo tonico io non sono mai riuscita a trovare l'intera linea alla lidl a parte ripeto cose da mangiare non ho preso altro poi nella parafarmacia sono andata a prendere il mio la mia crema corpo perché l'ho quasi finita se vi ricordate avevo comprato tre confezioni la terza la sto per terminare e quindi ne ho preso un'altra non c'era la promozione veniva 11 euro e qualcosa giù di lì però avevo un buono sconto della parafarmacia del 20 per cento quindi ho voluto prendere questa e questo nuovo prodotto che ho in mente di portarmelo in viaggio è un fluido idratante per il viso con spf 25 sempre della neutrogena con acido ialuronico lo apriamo io ancora non l'ho aperto il prodotto è questo qui sono curiosa di provarlo ci sono 50 ml di prodotto e questa è la crema che io utilizzerò crema come crema viso e fungerà anche da protezione sotto il trucco il profumo è ottimo e come quello insomma di questa che io non cambierò mai perché da quando uso quella o la pelle proprio idratata mi hanno dato questi due campioncini e licina che sono comodi da portare eventualmente insomma anche in viaggio una crema con bava di lumaca allora vi mostro in velocità altri prodotti li ho acquistati oggi quindi stavo montando il video e ho deciso di aggiungerveli sono andata in farmacia questa volta e ho trovato dei prodotti di neutrogena in promozione al 50 per cento questa da 12 25 veniva 6 e 12 latte gel detergente ho in mente di portarmi questo insieme al prodotto che vi ho fatto vedere al tonico della lidl da equivalenza ho voluto prendere tre prodotti adesso li appoggio e ve li mostro questa è una nuova linea che è stata fatta la spuma diciamo bagno doccia body care è una nuova linea io anni fa prendevo un altro tipo di spuma spuma sempre per la doccia che era ottima nella confezione viola la facevano poi nella confezione arancione forse gialla o verde e ho sentito le profumazioni e le ricordano mi sembra che venisse intorno agli 8 euro e 90 questa è con vitamina c e l'ho presa da tenere nella stanza per me e mio marito e questa qui è per la stanza dei miei figli è sempre una mousse sembra più piccolina ma la quantità è la medesima qua ci sono 200 ml però questa qui è già in spuma invece mi ha spiegato che questa esce liquida e poi diventa una spuma e ci sono sempre 200 ml di prodotto vi farò sapere il terzo prodotto appartiene sempre alla linea questa arancione che poi la linea arancione quella delle creme che vi avevo già fatto vedere nel canale la linea delle creme che hanno questo colore qui e poi la viola sempre la linea delle creme che avevo preso anche l'olio altri prodotti questo qui è un olio per il corpo illuminante alla stessa profumazione ma io ho deciso di prenderlo ci sono 100 ml di prodotto l'ho provato sul braccio mi è piaciuto questo ve lo faccio vedere e da agitare si presenta così il profumo è ottimo non macchia ea dei micro glitter però anche questo è idratante non so se si vede qualcosa e questo forse veniva intorno ai 10 euro forse 10 euro mi hanno dato in omaggio una spugna c'era arancione o verde e io l'ho presa verde poi ultimi prodotti che vi mostro uno e ne ho voluto prendere due mi ero trovata bene quindi ne ho voluto prendere altri due e cheratina e cocco latte spray senza risciacquo protettivo e lisciante e quindi ho voluto prendere questi mia figlia si trova bene quindi ne ho voluto prendere due ci sono 150 ml di prodotto era scontato al 50 per cento quindi da 12 euro circa mi sembra 6 euro poi avevo un'altra cartolina andata per una borsa in jeans però qualitativamente non era al massimo perché aveva un manico in ecopelle e poi abbiamo visto questa borsa termica allora vediamo se così si capisce un po di più questa è la borsa quasi apre all'interno al materiale che tiene appunto tutto a temperatura all'interno c'è la borraccia e poi un contenitore per portare appresso la pasta non l'ho ancora aperto questo l'ho preso per mia figlia e c'è anche un cucchiaino all'interno a me è sembrata una cosa carina per andare al mare insomma per andare in piscina e voler tenere le cose in fresco questa quindi mi è venuta in omaggio mi sembra che non mi abbiano fatto aggiungere niente però non vorrei dirvi una fesseria perché intanto per cambiare non ho lo scontrino se trovo lo scontrino vi scriverò il prezzo qua poi mi hanno dato in omaggio questi prodotti da bottega verde quindi questa è protezione spf 30 protezione alta uva e uvb resistente all'acqua crema solare viso poi un'altra crema viso protezione sempre 30 la calendula e zafferano viso e corpo e per finire uno shampoo fortificante rivitalizzante capelli normali da rinforzare pesca gialla basta finisco il video qua non ho nient'altro da mostrarvi sono curiosa di provare questo prodotto qui mi ispira tanto perché questa linea mi è piaciuta veramente e vi farò comunque sapere il video termina spero di avervi comunque tenuto compagnia vi ricordo se vi fa piacere di iscrivervi al mio canale per supportarmi lasciarmi qualche like e attivare anche la campanella per ricevere le notifiche essere avvertito ogni volta che esce un nuovo video anche perché ultimamente l'orario non lo sto rispettando in questa maniera sapete a che ora esce e quando esce un mio video vi ricordo se vi fa piacere che mi potete trovare anche su instagram e niente io vi do appuntamento a domani adesso mi metto a editare il secondo video quello di martedì e niente vi saluto ciao a tutte